Buongiorno, mi chiamo Franco Cavallotti, sono docente skill lab, sto in questo momento tenendo un corso che si chiama gestione della supply chain e riduzione dei costi dotari, un corso essenzialmente focalizzato nel dare qualche linea guida su come una supply chain modernamente organizzata dovrebbe operare soprattutto nell'ottica della nutrizione dei costi. In questo momento abbiamo sei partecipanti di aziende diverse, manufatturiere, tutta azienda manufatturiere e stiamo approfondendo soprattutto il tema delle leve da utilizzarsi sulla riduzione dei costi totali, che vuol dire essenzialmente costi dei fornitori esterni ma anche costi interni indotti dalla fornitura. Grazie. 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 Grazie.